Sono Anna, Anna Baker. Sto per raccontarti la storia della mia vita. Anzi, più esattamente il motivo per cui è finita. E se tu hai queste cassette, è perché sei uno dei motivi. Ci siamo baciati. Tutto ok? Perché? Tu sapevi qualcos'altro? Non c'entro assolutamente con questo. Alex ha fatto tutto da solo. Tanto era solo un gioco. Vero, Alex? Ti ho scritto una lettera, dicendoti cose che non avevo mai avuto il coraggio di ammettere con nessuno. Quanto era difficile vivere. Quanto mi sentivo sola. Speravo che leggendo la lettera avresti capito. Ma a quanto pare non me lo meritavo. Dopo aver finalmente capito come tutto era successo. Ho deciso che nessuno mi avrebbe più fatto del male. So che qualcuno di voi penserà che avrei potuto fare di più. O che avrei dovuto. Ma avevo perso il controllo. 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 Grazie a tutti.